ma no zia e corrado passera non è riuscito a conquistare il monte dei paschi di siena sì è sempre l'ex ministro dello sviluppo economico del governo di mario monti ti ricordi no che ti avevo raccontato che la banca aveva deciso di dargli una possibilità per presentare questo suo piano di salvataggio perché lui sosteneva di avere contattato questi fondi americani pronti a mettere oltre due miliardi nel monte dei paschi che non è esattamente poco ecco non se ne è fatto nulla lui si è arrabbiato perché non gli hanno dato la possibilità di fare una due diligence cioè di andare fondamentalmente a mettere il naso in tutte le eventuali magagne della banca la banca difende la necessità di proteggere le proprie informazioni ma secondo me che sono malpensante aveva tentato di farlo uscire allo scoperto per agganciare i suoi fondi e convincerli ad abbandonare passera e che lo abbia deciso lui oppure la banca non lo so a questo punto se passerà a superare a questa nuova batosta ecco brava zietta c'è proprio da cantare quella vecchia canzone passerà prima o poi questo piccolo dolore anche se io nella dolorosa storia d'amore tra passera e mps preferisco ricorrere a lady gaga it was a love it was a love it was a perfect illusion mistaken for love